Salve ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuto a tutti perché non ancora si fanno iscritti schiena o perché non sono iscritti e mi mancano con me perché usciranno sempre comunque nei video. Allora ragazzuoli, cosa sono costoro? Cosa sono? Sono i Lella Azteca, piccolissimi crostacei, che hanno un senso di esistere in acquario. Li ho scoperti da qualche anno, li sto riproducendo senza alcun tipo di problema. Adesso stanno mangiando una pallina di un gamberetto, uno di quei mancimi che comunque somministro giornalmente. Da pochi esemplari ne diventano comunque veramente tantissimi. Sono dei trivoli, quindi comunque il fondo ve lo tengono sia smosso che bello pulito. Da qualsiasi tipo di rimasuglio di cibo intendo. Perché poi per il resto sifonare, ragazzuoli, in certe condizioni è necessario. Io infatti una bella sifonata una volta a settimana la faccio. Possono convivere con le caridine. E qui vi posso far vedere le blue velvet che ho insieme a loro. Possono convivere con i pesci. Sono un ottimo cibo vivo perché si riproducono massivamente. E anche se vengono predati, continuano a riprodursi fregandosene altamente di coloro che sono presenti in vasca. Infatti mi è successo di stare anche fuori una o due settimane per lavoro e ho ritrovato i pesciotti in perfetta salute. Tutti cicciotti e patatosi. E questo quando devo all'Erasbore Galaxy in questa vasca. Sono veramente molto carine, interessanti da vedere. Si adattano in qualsiasi tipo di acquario. Ovviamente ragazzi se ci mettete discus o scalari se li fanno in due secondi. Quindi con i poicilli, tipo guppi, plati, queste cose qua sopravvivono senza problemi. Io comunque vi consiglierei più di altro. Cioè più che altro comunque di riprodurli prima e poi inserire i pesci. Cioè nel senso metterli all'avvio della vasca, aspettare che si riproducono e poi inserire i pesci. E avere comunque un ecosistema equilibrato dove fungono da cibo vivo e da comunque organismi che vanno a tenere il fondo smosso e pulito. Come ho detto anche prima. Sono veramente veramente belli. Non ricordo la loro variante del marino perché ci sono ma non mi ricordo come si chiamavano. Mamma mia quanti cacchio ne sono, sono bellissimi però. Guardate la cridina è anche ovata, ha le ovette sotto quindi. Ragazzi io non cedo nuno di male a tenerli sinceramente. Non so il perché gli altri acquariofili non li abbiano in vasca. Io vi esorterei a prenderli, li trovate anche su subito.it. Qualcuno c'è che li alleva. Magari spedisce pure e problemi non ne avede. No veramente belli. Poi comunque se volete guardare anche i miei piccoli cuppetti patatosi, guardate davanti, sono belli. Se stai fermo magari posso inquadrarti. Devo dire, ottimo acquisto. Devo dirlo, devo dirlo proprio. Ragazzi io spero che il video vi sia servito. Che comunque vi abbia ispirato in qualche modo. Anche perché l'acquologia è tutta una teoria relativistica. Cioè nel senso comunque metodi di avviamento, di gestione, mantenimento, convivenze. Tranne per i valori che comunque sono sempre gli stessi. Ma vabbè. Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli e buona giornata.